Bene carissimi amici, ancora ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Vado a proporvi ancora una volta un altro regalone per questa Pasqua 2023 e faccio una cosa che ho già fatto. Molti si ricorderanno e molti hanno in mano ancora il metodo che ancora oggi vince. Quello di Napoli, quando vi ho regalato un'unica terzina sulla ruota di Napoli, quindi ambata a amboterno. Ancora oggi, la scorsa estrazione, quel metodo ha pagato l'estratto 28 su Napoli, la scorsa estrazione. Quindi adesso vado a farvi ancora un altro regalone. Metodo regalo per tutti, ma solo via WhatsApp. 348 75 47 715, solo per chi mi contatta. Avrà la possibilità di avere un metodo mensile, con calcolo alla terza estrazione del mese, che gioca in maniera ristrettissima una sola ruota, un'ambata, un'ambe e un terno. Sono tre numeri, ok? Questa terzina la possiamo mettere chiaramente anche tutta in nazionale, perché se esce il terno, faccio un esempio, sua nazionale, è comunque una vincita da non perdere, ma anche a tutte. Sono soltanto tre numeri, su unica ruota di Bari, unica giocata mensile. Statistica breve, per avere maggiore efficacia futura. Gennaio 2023 questo metodo ha pagato il terno 56 71 37 a Bari, dodicesimo colpo. A febbraio ha pagato l'ambo con l'ambata, chiaramente al sesto colpo 26 81. Ovviamente mettendo la terzina, avevo vinto ambosecco, vinto terzina e ambata. A marzo un altro terno. Prima ha preso l'ambata 88 su Bari, e poi al nono colpo 88 8 60. Quindi, su quattro casi esaminati, quattro ambate, tre ambi e due terni. E uno in corso. Attenzione a questa giocata, attenzione a questo metodo. Non lo perdete perché è totalmente gratuito, ma solo per chi mi contatta via WhatsApp. Questo è un metodo di una terzina su Bari, sono tre numeri, ambata, amboterno. Siccome il metodo di Napoli ha dato diverse soddisfazioni ai possessori, molti mi contattano ancora per quel metodo regalato, perché ha pagato ambate e ambisecchi, quindi voglio farvi un altro ulteriore regalo, proprio approfittando di questa festività pasquale 2023. Quindi, metodo regalo per tutti, ma solo per chi mi contatta via WhatsApp. Quindi, chi vorrà avere questo metodo, che giocheremo come primo colpo dall'estrazione di sabato 8. Quindi avremo un solo estratto sulla ruota di Bari, un solo ambro e un solo terno. Quindi, giocata ristrettissima. Metodo da seguire mensilmente, perché è un metodo che si può giocare veramente con pochi euro. Lo vedete? La giocata, praticamente, è composta in questa maniera. La terzina, chiaramente, la possiamo mettere anche nazionale e tutte, amboterno. Quindi possiamo o fare il capogiuco, quindi fare l'ambo, il terno, scomporre addirittura nei tre ambi, quindi diventano tre ambi unica ruota, o giocare la terzina, amboterno. Poi, chiaramente, vi gestite voi la situazione. Contattatemi via WhatsApp numerosi perché è un metodo che ha una previsione di aprile che mi piace molto sulla ruota di Bari, quindi attenzione a non perderlo assolutamente perché potrebbe arrivare ad aprile un'altra grandiosa vincita. Per adesso, saluto a tutti, Mister Sbancolotto.